Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart. Su raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per riqualificazione stradale chiusa via di San Bartolo a Cintoia tra via Martini e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!